Eccoci con Francesco Zucchi Ricordi e Fausto Moneta degli Accademi dei Bastoni, capitano degli Accademi dei Bastoni, partenza ottima 4 a 0, potrà starvi stretta questa serie D? No, siamo partiti bene, dopo un'estate comunque non ci siamo allenati molto, chiaramente la D non è la C, però speriamo di fare molto bene e arrivare tra le prime due o tre squadre. Insomma è un'Accademia che si cambia di essere una delle favorite del Giro. Speriamo, adesso vediamo gli altri avversari come si comportano e aspettiamo la prossima. Insomma è importante anche iniziare senza subire gol, facendo girare bene la palla e tutto, quindi vi vedrò sicuramente in testa della classifica. No dai, iniziamo! Ottimo inizio, ottimo inizio, continuità! Lo dico solo perché ha solo il vostro girone, quindi ve la sto occupando. La portiamo fino in fondo! Va bene ragazzi, grazie, ci vediamo alla prossima! Ciao ragazzi!